Oggi siamo all'Usea in provincia di Rovigo e stiamo seguendo le raccolte di Autora. Il nostro ibrido per le raccolte di febbraio-marzo, un ciclo medio-tardivo, è una pianta molto sana con una foglia scura e come possiamo vedere un costo molto lungo e con un'ottima percentuale di pianta. Per maggiori informazioni sulla nostra gamma a forro potete rivolgervi al vostro responsabile di idea. Grazie a tutti.